velocissimo siamo qui all'interno della cateram questo è un fondo tom web il pr della cateram ci sta facendo fare un giro è uno spettacolo assoluto guardate qua altri due fondi io amo la formula 1 per tutto quello che è ma soprattutto perché quando la possibilità di vedere cose di questo tipo io vado fuori di testa ciao ragazzi ciao